POPO! Tipo la figata così come hai fatto fino La figata, la stronzata Aspetta, Piano, non andiamo a... Non andiamo a... Non andiamo a questo cazzi muretto Non prende niente, tra... C'è un tantissima luce, mamma mia Aspetta, ho un'idea Ma fanculo Eh, sacrifichi il tuo head Vai Si, no, come a me, la cosa è potentissima Va Ok, si Allora... Sembra un... Regia, POPO, regia, mamma mia Portami via Allora, tre, due... Allora, c'è il puttino Regia, portami via E' una cosa corta Due Oh, che cazzo figata, ti vedi oltre Vabbè Due Uno Bella a tutti ragazzi, io sono Apple 3259 Benvenuti in questo nuovo video Oggi come potete vedere ci troviamo in... Con infernal Mi dice che, vabbè Mio Dio, mi dicevano la luce Beh, aspetta Regia, aiuto Ok, eh, ragazzi, questo è un video... Allora, aspetta, io sono in infernal 489 Non è 48 489 Non è 48 Vabbè, comunque Comunque Siamo qui per fare un video introduzione della serie di Minecraft che sarà... Forse è aperta Da me Forse Forse sarà realizzata Poi vediamo Eh, come... Dipende dal tempo che abbiamo Eh, infatti E con gli studi e roba varia Cazzo superiore non sono facili, minchia Non sono più le medie con i vecchi tempi, il bastardo Non mi tira fuori dal video che mi... Questa si taglia Sì, fa Brutale Ragazzi, non sono più i tempi... Che ha le braccia? Uhhh Raga, questi non sono più i tempi facili come le medie, ma siamo molto più... Anzi, elementari, giusto per dire Eh, vabbè, sì, buonanotte Eh, insomma, praticamente apriremo una serie in Minecraft 1.8 O lo aprirò io O lo aprirò lui Il server Oppure lo aprirò io con Antecos Poi vediamo Oppure non si farà niente Oppure non si farà niente E giocheremo semplicemente su The Hive A cazzo Come abbiamo sempre fatto Ehm... Facciamo tipo invece di video Vabbè, sì, vabbè Invece di video facciamo tipo un live Taglio Un live No, che merda No, ok Questo vanno tagliato brutale Sì, sì Diconti, taglio, taglio I video dei rumini Ma a metà di uno cazzo Esatto Eh, anche io farò adesso niente No, ti picchio Vabbè, comunque Allora, ehm... In questa serie parteciperanno Basso Ehm... Qualcuno Faxenon Gaming Scusami frate ma... Io non conosco Conoscete tutto lui Conoscete tutto lui Enderman Steve Inferno 48 Guardami Ehm... E' un passante, è un passante Ma si fa niente Ma c'è il massaggio Allora Allora... Mi raccomando Vabbè, comunque, praticamente Sì Ehm... Tagliato Tagliato Tagli sto braccio Sei un ricchione di merda Oh, ma... Minchia Ehm... E beh, insomma Io in fronte della 48 faremo questa serie Sarà una serie di punti, insomma Del nostro canale E registrerà anche lui Sì, siamo creepy Io sono un criminale Vabbè, raga Per questo video è tutto Introduzione Tipo per tre video di introduzione Mi pare già abbastanza Saluto dalla regia Minchia Regia portami via Per questo video è tutto E noi ci vediamo alla prossima